Chloé, mi vuoi sposare? Finalmente sei venuta a trovarmi. Strano, tu sei tutto di me e io... a volte ho la sensazione di trovarmi davanti ad uno sconosciuto... che mi nasconde qualcosa. Ho visto che hai un altro cognome. Me ne vuoi parlare? Sì, non è importante. Per questo non te ne ho parlato. Tutto qui. Devo saperlo adesso. Perché non vuoi presentarmi la tua famiglia? Sai benissimo che i miei genitori vivono negli Stati Uniti. Perché menti? Non mento, Chloe. Ti ho visto fuori dal museo. Ti sbagli, non ero io. Era qualcuno che mi somiglia. Sei un mostro. Oh, Chloe, non esistono mostri, ma solo esseri umani. Erano una coppia così perfetta. Poi è successo quello che è successo. La chiamo perché mi sento in pericolo. Vorrei spaventarmi, mettermi paura, farmi del male. So tutto. Che cosa fai? Credo che abbiamo un ospite. La chiamo... Fai. Grazie a tutti